Il momento speciale per Niccolò Zaniolo, dopo tante convocazioni in Under-19 ora parteciperà alla fase Elite, primo giocatore dell'Entella. Eh sì, è sempre un grandissimo onore vestire la maglia azzurra per ogni ragazzo che pratica questa passione, è un onore grandissimo e quindi ora ce la metterò tutta per dare una mano alla mia squadra a qualificarci all'Europeo al finale. In pochi giorni la consacrazione perché hai esordito i professionisti e è arrivata la convocazione in Azzurro, quanto lavoro c'è dietro questi risultati? Eh ci sono tanti sacrifici, sia a me e alla mia famiglia, giorno dopo giorno in allenamento e per fortuna sto avendo i riscontri sul campo. Soddisfatto di aver scelto l'Entella quest'estate? Sì sì sì, forse è la scelta più giusta che ho fatto in tutta la mia vita. Poi ad aprile due appuntamenti importantissimi alla doppia finale di Team Cup? Sì sì, ci abbiamo il 6 aprile qua al comunale e al 21 all'Olimpico, due appuntamenti importantissimi, fondamentali per la nostra stagione e speriamo di mettercela tutta come stiamo facendo fino adesso e conquistare la Coppa.